Manovra, approvato l'emendamento Gianni, per recuperare 200 milioni di disavanzo sanitario, aumenta l'addizionale IRPEF per chi ha un reddito sopra i 28 mila euro. Fondo regionale da 37 milioni di euro per i ristori agli alluvionati, 12 milioni per le imprese e 25 milioni per le famiglie, che potranno avere fino a 3 mila euro ciascuna, ma occorre presentare domanda. Manovra, sale l'IRPEF per 500 mila toscani. Tra il pomeriggio e la notte di giovedì 21 dicembre, il Consiglio regionale ha approvato la nota di aggiornamento al DEF, la legge di stabilità 2024, il collegato alla legge di stabilità e il bilancio di previsione finanziario 2024-2026. Tutti i provvedimenti sono stati approvati a maggioranza, a favore il Partito Democratico, contro Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e Movimento 5 Stelle, mentre non ha partecipato al voto Italia Viva. A tenere banco sono stati i due maxi emendamenti presentati dal Presidente Eugenio Gianni, che introducono l'aumento dell'addizionale regionale IRPEF e la destinazione delle risorse ottenute, in gran parte alla sanità e in parte residua ai ristori per gli alluvionati. L'atto serve a coprire parte del disavanzo in materia sanitaria per questo 2023, che ammonta a 200 milioni di euro. Per coprirlo, la Giunta regionale aveva chiesto, nelle scorse settimane, che il Governo garantisse il credito del cosiddetto payback sanitario che le case farmaceutiche dovrebbero restituire per forniture extra soglia relative al quadriennio 2019-2022. La legge nazionale che sotto il Governo Renzi istituì il payback sanitario è però al vaglio della Corte Costituzionale e l'esigibilità del credito è dunque dubbia. Non avendo ricevuto rassicurazioni da Roma e non avendo apportato altre contromisure, la Giunta toscana ha dunque proposto e ottenuto l'aumento dell'addizionale IRPEF per recuperare il gettito mancante di 200 milioni ed evitare di incorrere nei prossimi mesi in un piano di rientro forzoso e nel commissariamento della spesa sanitaria che avrebbe potuto portare ad un aumento del prelievo fiscale indifferenziato per tutti i cittadini toscani. Con il provvedimento presentato dal Presidente Gianni, coloro che sono sotto la soglia dei 28 mila euro, un milione e mezzo di contribuenti toscani su un totale di 2 milioni e 100 mila persone, nel 2024 non avranno prelievi IRPEF regionali aggiuntivi. Per i redditi lordi compresi tra i 28 e i 35 mila euro, l'aumento delle tasse regionali prospettato è invece di 120 euro l'anno. Il prelievo regionale aumenterà invece di circa 330 euro l'anno per chi guadagna fino a 50 mila euro lordi e di 1.200 euro l'anno per chi ha un reddito superiore a 100 mila euro. Anche stamani ulteriore colpo all'autonomia, alla capacità di spesa delle regioni da parte del Governo. È arrivata la notizia che in corso del dibattito in Parlamento sulla legge finanziaria, è stata dal MEF, dal Ministero Economia e Finanze, la proposta che con un rendamento voleva togliere 500 milioni come contributo di solidarietà da parte delle regioni verso la legge finanziaria. Fa davvero sorridere, appare grottesca, l'indicazione di un contributo di solidarietà quando il Governo non dà alle regioni i soldi che li spettano. Comunque sia, tutti i presidenti regioni, compresi quelli di centro-destra, quindi è chiaro che vi è un'impostazione, come dire, culturale, istituzionale contro le regioni. Si sono posti e quindi da 500 milioni probabilmente sarà sviluppato un emendamento che ne prevede, per questo contributo che viene tolto alle risorse della regione per metterlo sul bilancio dello Stato, 350. Ma in questo caso anche per la Toscana significa 40 milioni in meno. Quindi voi vedete che il payback che non c'è stato riconosciuto, mentre l'anno scorso il ministro Speranza l'aveva riconosciuto e che quindi ha portato automaticamente a dover mettere delle imposte che sono il frutto di una sottrazione di risorse che il Governo ha indirettamente creato nei nostri confronti porta per forza di cose a vedere che dietro c'è proprio un approccio da parte del Governo che è quello di radare le risorse e la capacità di spesa e di intervento da parte delle regioni. Non possiamo accettare che si mettono in mano ulteriori tasse ai toscani. E' troppo facile la favoletta in cui si racconta che tutta la responsabilità è del Governo. Il secondo tema è quello che nessuno vuol dire ma è la verità. C'è stata una sentenza del Tar Lazio che ha rimandato tutto alla Corte Costituzionale che ancora si deve esprimere su quello che è il payback e quindi il Governo, fino a che la Corte Costituzionale non avrà dato un giudizio di legittimità sulla legge istituita dal Governo Renzi non potrà assolutamente fare nessun passo in avanti in favore nemmeno della Regione Toscana e di nessun'altra Regione. Vedete, le altre Regioni d'Italia hanno prevenuto, non mettendo a bilancio i soldi del payback oppure altre Regioni accantonando fondi in tutto quest'anno per evitare di trovarsi oggi alla situazione che si trova la Toscana. L'unica Regione che ancora, fino a oggi, questa mattina, continuava a bussare alle porte del Ministro Schillaci che non è il Ministro competente era la Regione Toscana. A voi una domanda e a voi una risposta. Noi voteremo sicuramente contrario all'innalzamento delle tasse perché non riteniamo che ne debbano fare le spese i cittadini toscani di una mala gestione della Giunta regionale. Ci sono tantissimi sprechi che potrebbero essere eliminati, non ci risulta. Non vi faccio gli esempi perché sono 15 cm di documenti. Tengo solo a precisare che non si dovrebbe mai dare 15 cm di documenti da controllare in 5 giorni perché è ovvio che il lavoro viene fatto in modo approssimativo. Per quanto riguarda questi 400 milioni di buco che mancano dal bilancio della sanità credo che dovrebbero essere evidenziati in bilancio. Non ci risulta che sia stato fatto e mi domando come sia possibile perché chiunque legga il bilancio ammesso che abbia tempo di farlo e voglia non legge da nessuna parte che mancano 400 milioni. Si legge soltanto sui giornali. Quindi c'è qualcosa che non torna. Oggi la sanità toscana offre dei servizi che vanno oltre i livelli essenziali di assistenza. Posso fare alcuni esempi. La cura dei denti fatti dalla sanità pubblica, lo screening neonatale, il codice rosa, tutta l'esenzione dal pagamento di qualsiasi ticket da parte dei disoccupati sotto l'ISED 18 mila euro. Ecco, noi non possiamo permetterci che la cura dei cittadini e delle cittadine toscane e di chi sta in Toscana regredistica, ma anzi abbiamo bisogno semmai di migliorare. Di fronte ad un governo che da una parte in percentuale ha tagliato il fondo per sostenere la sanità pubblica, dall'altra non ci riconosce il Payback che l'anno scorso era di circa 400 milioni e che è previsto da una legge dello Stato. Noi avevamo poche altre scelte. Poteva essere quella di mettere il ticket sulle ricette, quello di aumentare i medicinali. Sarebbe stata una tassa indiretta nei confronti di chi ha bisogno di curarsi. Non è necessario spendere di più, è necessario spendere meglio. I tanti soldi a disposizione della sanità toscana sono 8 miliardi di euro l'anno. Un esempio su tutto, abbiamo una moltitudine di sistemi digitali che fanno sì che non ci sia collegamento, interconnessione tra territori, tra ospedali, tra un ospedale e un altro, tra aziende sanitarie locali e aziende sanitarie universitarie. Abbiamo una serie di sprechi, per esempio, negli acquisti di farmaci che sono sotto gli occhi di tutti. Abbiamo strutture ospedaliere vuote e ce ne sono altre invece che sono fatiscenti. Non è vero che i medici mancano dappertutto. In alcuni reparti ce ne sono di più, di medici ed infermieri rispetto a quanto occorrerebbero. Non c'è un piano sull'utilizzo delle risorse, sia umane che economiche, da parte della regione toscana. Si vive alla giornata e vivere alla giornata porta poi a un disavanzo di due, trecento, quattrocento, mezzo miliardo di euro, come sta avvenendo in questo tempo, per il quale poi è necessario aumentare le tasse. Manteniamo ferma la nostra posizione, come Italia Viva, sulla contrarietà all'incremento dell'addizionale IRPEF. Riteniamo sia ingiusto, inico e non corretto far gravare sui cittadini toscani il fatto che le case farmaceutiche non abbiano rimborsato la regione toscana e il governo dei maggiori guadagni che hanno fatto negli anni del Covid. In quegli anni le persone morivano, gli infermieri lavoravano, i medici lavoravano e c'era qualcuno che si arricchiva. Noi abbiamo diritto ad avere quei soldi, quindi la Toscana deve fare la battaglia delle battaglie per riscuotere quei 400 milioni che le competono per iscriverli al bilancio. È un credito che si può iscrivere in bilancio. Noi non vogliamo quindi aumentare le tasse a cittadini toscani, vogliamo approvare però il bilancio, mantenere gli impegni di maggioranza della Toscana, fare una battaglia nei prossimi quattro mesi per riscuotere quello che spetta a cittadini toscani. 37 milioni per gli alluvionati. Il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità una proposta di legge illustrata in aula dalla Presidente della Commissione Sviluppo Economico, Ilaria Bugetti, che contiene misure urgenti a sostegno delle comunità e dei territori colpiti dall'alluvione del 2 novembre scorso. Lo stanziamento della regione ammonta a 37 milioni di euro, 10 milioni in più rispetto ad una prima previsione, per effetto dell'emendamento Gianni, che ha aumentato le aliquote IRPEF per i redditi sopra i 28 mila euro annui. Dei 37 milioni complessivi, 12 milioni andranno a favore di aziende extraagricole, tramite sviluppo Toscana S.P.A., sia sotto forma di contributo a fondo perduto per l'abbattimento degli interessi su finanziamenti ricevuti che per ristori per i danni subiti dalle imprese. 25 milioni sono invece riservati sotto forma di contributo finanziario straordinario in favore delle famiglie per il riacquisto dei beni mobili danneggiati dagli eventi del 2 novembre, non compresi in analoghi provvedimenti nazionali, come ad esempio i veicoli, fino ad un massimo di 3 mila euro per nucleo familiare. La legge, inoltre, interviene in favore degli ambulanti aventi la sede della propria impresa o che siano titolari di posteggi nel territorio di uno dei comuni interessati dall'alluvione. L'evento ha determinato infatti l'impossibilità di raggiungere mercati e fiere oppure l'impossibilità di parteciparvi a causa della perdita delle merci, degli automezzi e molte volte di entrambi. Si stabilisce quindi che per questi operatori i comuni non devono conteggiare le assenze effettuate nel periodo compreso tra il 2 novembre e il 31 dicembre 2023 e che pertanto tali assenze non concorrano a determinare la decadenza del titolo abilitativo. Una legge molto importante perché con questa legge noi andiamo a dare un primo segno di solidarietà e di vicinanza alle famiglie che sono state duramente colpite dall'alluvione. In questa legge troviamo l'elenco di tutte le province e dei comuni che hanno subito danni e stanziamo la cifra di 37 milioni che saranno suddivisi in circa 12 milioni alle imprese e gli altri restanti alle famiglie con un plafond che va fino a 3 mila euro di riconoscimento per le famiglie. È un primo gesto di solidarietà di vicinanza è un primo aiuto che arriva dalla regione toscana un atto concreto. Insieme a questo i soldi per le imprese le piccole e medie imprese le aree commerciali e quindi con una parte che prevederà l'abbattimento degli ammortamenti e quindi tutta la parte degli investimenti e l'altra parte che sarà dedicata a comprare materiale che è andato deteriorato e quindi per acquisto anche di macchinari che sono stati sciupati. È una piccola cosa a cui speriamo si aggiungeranno presto le risorse del governo perché siamo consapevoli che questo non basterà però nel frattempo questi 37 milioni di cui appunto una parte 12 alle imprese e il restante alle famiglie saranno speriamo un piccolo gesto che darà un po' di sollievo a chi ancora sta soffrendo. Noi quando c'è da stare dalla parte dei toscani e da aiutare i toscani lo facciamo sempre lo facciamo in maniera responsabile come l'abbiamo fatto su questa proposta di legge che porta i ristori alle vittime dell'alluvione del 2 del 3 novembre scorso dispiace dispiace tantissimo aver ascoltato il segretario regionale del Partito Democratico e purtroppo a lui siamo abituati al governatore Gianni un po' meno strumentalizzare questa vicenda quando dice io andrò porta a porta dai cittadini toscani a chiedere se sono arrivati prima i soldi della Toscana o i soldi del governo è una caduta di stile che non appartiene a Eugenio Gianni dispiace vedere un presidente così nervoso non è una gara a chi dà prima i soldi perché ricordiamo al presidente Gianni che mentre c'erano 7 province su 10 della Toscana con il fango che entrava in casa dei cittadini è da corso di fronte ai microfoni a ringraziare il presidente Meloni perché in un'ora il governo nazionale ha fatto arrivare i primi 5 milioni sul territorio per la prima urgenza e nessuno li ha rinfacciati il PDL alluvioni ho presentato un atto che già avevo fatto presente proprio in aula proprio al presidente Gianni in merito alla necessità di rivolgersi a quelle persone a quelle aziende che più hanno avuto disagi e che più hanno avuto danni e che hanno difficoltà anche poi nella compilazione dei vari moduli e quindi ho proposto una task force che parta poi anche dalla operatività della protezione civile e da quello che la regione toscana può concretamente fare per aiutare le persone ad avere i rimborsi perché purtroppo abbiamo vissuto anche nelle precedenti alluvioni tutte queste procedure burocratiche alla fine poi lasciano fuori purtroppo più della metà delle persone che effettivamente hanno bisogno invece di vedere almeno tornare indietro qualcosa di quello che hanno perso sia in termini economici sia in termini di rapporto con le banche ma soprattutto anche nei beni materiali che magari servono sia per la loro attività ma anche per tante persone e tante famiglie che hanno vissuto e continuano a vivere disagi importanti e non possiamo far accrescere questi disagi con una burocrazia e una mancata di efficienza nel supportare queste persone ad essere aiutate grazie a tutti